Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video in cui andrò a parlarvi del sistema ibrido Toyota vi spiegherò come è costruito, la sua architettura, il suo funzionamento più nel dettaglio come sempre prima di continuare col video invito a condividere il video e lasciare un like se vi è piaciuto soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi approfondimenti allora il sistema ibrido Toyota è un particolare sistema che si basa sulla presenza di un particolare ingranaggio chiamato rotismo epicicloidale il quale consente di ricevere e combinare la potenza di in questo caso tre motori presenti cioè un motore benzina e due motori elettrici uno che funziona da moto generatore e questo motore specifico più per la trazione direttamente alle ruote ora su come funziona questo ingranaggio rotismo epicicloidale farò un video apposito perché è un argomento abbastanza complesso tuttavia nell'immagine qui a fianco vedete un piccolo schema di come è costituito questo sistema questo ingranaggio epicicloidale generalmente è costituito da una ruota centrale quella che vedete in bianco che viene chiamata appunto solare e su questa vengono innestate altre ruote chiamate satelli sono quelle più piccole che vedete nell'immagine in blu tali satelliti ruotano tra la ruota solare e la corona esterna che vedete in rosso che ha una dentatura interna i quattro in questo caso satelliti non sono scollegati tra loro ma sono collegati a un sistema meccanico che li unisce e gli fornisce un'uscita meccanica a questi ingranaggi e lo vedete qui ora qui ho disegnato uno schema meccanico dell'accoppiamento specifico del sistema ibrido Toyota allora si nota motore benzina, motogeneratore primario e motore elettrico secondario per la trazione al solare è collegato in giallo è collegato il motogeneratore elettrico primario al porta satelliti cioè quel sistema che unisce le due ruote dentate che stanno in mezzo tra il solare e la corona viene collegato il motore benzina mentre alla corona esterna oltre ad avere la dentatura interna per poter permettere il movimento dei satelliti del solare ha anche una dentatura esterna alla quale viene collegato il motore elettrico secondario questo sistema rapido in un altro ingranaggio viene direttamente collegato alle ruote qui ho fatto un piccolo schema per farvi capire come sono posizionate le uscite, le entrate, diciamo, dei collegamenti allora infatti in blu sempre la corona esterna e questo viene collegato con un ingranaggio esterno il motore elettrico secondario e poi gli ingranaggi e gli alberi che vanno alle ruote in giallo è l'entrata per il solare cioè la ruota centrale e viene collegato da questo lato direttamente al motogeneratore primario il porta satelliti che unisce tre ruote dentate che abbiamo visto in blu nell'immagine precedente viene termina con un albero, un profilo scanalato che si viene collegato e innestato direttamente all'interno del motore benzina questo sistema in particolare ideato da toyota rientra nella categoria dei libri di parallelo vi rimando in alto il link al video già fatto e inoltre rientra sempre nella categoria di accoppiamento né in coppia né in velocità ma è un misto di entrambi i sistemi questo sistema ha numerosi vantaggi innanzitutto l'efficienza di funzionamento è massima è un sistema particolarmente compatto e grazie a questo schema costruttivo si è risparmiato sull'utilizzo di molti componenti solitamente necessari a un'automobile l'alternatore per la ricarica e le batterie è lo starter cioè il motorino di avviamento per il motore benzina non sono presenti frizione e cambio ovviamente perché questo gestisce tutta la velocità dei motori e la coppia fornita dai motori alle ruote e quindi si ha un netto vantaggio qui è riportata l'equazione che descrive la gestione della coppia tra i vari motori questa è la coppia del motore benzina questa è la coppia del motogeneratore primario questo qui il fatto che questa sia negativa significa due cose innanzitutto supponiamo per esempio di essere a bassa velocità quindi il motore termico ha un certo regime di rotazione magari un po' più alto di quello che sarebbe necessario per essere in una zona più efficiente di funzionamento la potenza del motore benzina è divisa e splittata in due parti una parte va alle ruote tramite la corona esterna e l'ingranaggio secondario una parte va al motogeneratore primario che ruotando nella sesta direzione del motore benzina qua risulta una coppia col segno meno una potenza negativa e va a ricaricare la batteria supponendo invece di essere a velocità più elevata e quindi con carichi richiesti più elevati il motore benzina per non farlo funzionare al massimo del suo regime di rotazione che sarebbe una zona di funzionamento poco efficiente viene fatto lavorare a velocità leggermente inferiori in questa situazione la velocità del motogeneratore primario sarà negativa cioè sarà nella direzione opposta che significa che la potenza sarà positiva quindi fornisce una potenza positiva al power split device allora in questi schemi vediamo più graficamente i flussi di potenza che avvengono tra i vari motori del power train ibrido Toyota allora durante le partenze da fermo il motore termico non viene mai azionato avviene le partenze fino a una velocità di circa 18-20 km orari l'automobile viene spinta esclusivamente dal motore secondario l'MG2 che prende energia alla batteria e fornisce potenza alle ruote gli altri due motori non sono assolutamente chiamati in causa questo perché la fase di partenza a bassi giri, bassi carichi per il motore benzina è una fase assolutamente inefficiente quindi in questo modo viene evitato qualunque spreco di combustibile in questi momenti vi aggiungendo a velocità costante la potenza del motore benzina come già ho spiegato prima viene solitamente splittata in due parti una prima viene fornita direttamente alle ruote tramite la corona esterna un'altra parte viene fornita al motore generatore primario che ha una potenza negativa ovvero ricarica la batteria per accumulare energia durante la marcia nella batteria che poi può tornare utile in altre fasi della guida allo stesso tempo anche l'MG2 fornisce anche una piccola coppia alle ruote se è necessario aiutare il motore benzina durante una situazione di forte accelerazione quindi vogliamo una massima prestazione dal powertrain il motore benzina agisce sulle ruote l'MG2 agisce sulle ruote una parte della potenza del motore benzina siccome questo sempre si cerca di farlo funzionare è nelle sue zone sempre di massima efficienza quindi non al massimo del regime di rotazione una parte di questa potenza viene splittata sempre allo power split device viene mandata all'MG1 che ricarica e fornisce però energia direttamente al motore MG2 che dà potenza anche lui perché l'MG2 è l'unico motore elettrico a dare trazione alle ruote oltre il motore benzina durante le fasi di frenata le ruote sono direttamente collegate al motore elettrico secondario quindi queste azionano questo motore che funziona a potenza negativa ricarica la batteria e accumula energia allora per questo video è tutto seguiranno altri video anche su questo tema in cui spiegherò altre architetture ibride presenti sul mercato lasciate un like se il contenuto vi è piaciuto condividete il canale e soprattutto iscrivetevi ciao ciao ciao